Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Alberia, ascoltate! L'Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai! La parola d'ordine è una sola! Categorica e impegnativa per tutti, essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. VINCHERÈS! E VINCHERÈS!